E a Mario, uomo di eccezionale sensibilità d'animo, ci descrive quel mesto presentimento che ci riempie il cuore allorquando ci si accorge che la persona amata senza alcun motivo non corrisponde ai nostri sentimenti e inelluttabilmente, nonostante i nostri sforzi, si allontana da noi. Di E a Mario, presentimento, canta Giuseppe Madonna. 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 a te, nana, io vorrei riusci a te, come è scuro questo destino mio, per questa fatalità. E non tu sai riuscire, perché mi attacca a te, di un forte l'ellara, l'ellara, la fossa all'ellara, potrei morire, potrei così. Dimma, e si affrona torna, qua primavera, non c'è posta con me, ma chiude l'acqua e gli agnera, e ci unnamorato senta, si mangia sparta, stupra sentimento, perché mi attacca a te. E amore, 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 abbraccia, con pieda abbraccia, e songa, becce l'ellara, l'ellara, e a songa, l'ellara, voglio morir, e un grosso, butté abbraccia, le metà, e sonatà, 무�i, e sonati, e sonati, e sonati, e sonati, e sonati, e sonati. Grazie.